Buongiorno a tutti, noi come gruppo di ipodopatia diabetica ci occupiamo di pedidiabetico, ci occupiamo di pedidiabetico dall'aspetto della prevenzione sia anche del trattamento ed è per questo che un ambito dove si pratica attività fisica è un punto fondamentale del nostro lavoro, è un'attività importante perché l'attività fisica è un'attività ottimale per prevenire le complicanze cardiovascolari, per migliorare la circolazione degli arti inferiori, ma è importante anche farla in maniera protetta, il che vuol dire affrontare prima un esame diabetico completo, uno screening delle complicanze del piede, sia dal punto di vista della neuropatia, sia dal punto di vista della vasculopatia, sia un attento esame obiettivo del piede, solo in questo modo possiamo affrontare l'attività fisica in maniera sicura e quindi avviare un programma di attività fisica protetta, trovando qual è il piano migliore di allenamento e qual è lo sport migliore per ogni persona.